Ciao, io sono Orietta. Oggi voglio parlare di che cosa hai fatto quest'estate. Sono andata a Baishawan con il mio ragazzo e i miei amici si chiamano Lorenzo, Giulia e Jordan. Abbiamo alloggiato alla casa del Jordan. Dopo siamo arrivati a Baishawan, siamo andati al mare. Prima di tutto abbiamo fatto il bagno e abbiamo fatto immersione sotto l'acqua. Mi sono abbronzato sulla sabbia e ancora sono camminata sulla costa e ho fatto tante tante foto. Oggi sera abbiamo fatto criata e bevuto la birra. E poi abbiamo chiacchierato e abbiamo suonato la chitarra e cantato insieme perché ci piace la musica molto bene. A notte abbiamo ammirato il panorama notturno meraviglioso. Si sembra non fare niente di speciale ma è stato un viaggio troppo felice e rilassante. In agosto sono andata a Hualien con i miei compagni di liceo. Siamo andati con treno e abbiamo alloggiato in un aperco indipendente che è vicino alla stazione. Abbiamo giocato i giochi da tavolo tutta la prima sera perché ha piovuto quasi tutto il giorno. Alla seconda giornata abbiamo fatto un giro in città con moto. Il sole è stato splendido e ci sono stati 20 tepoli. Siamo anche andati al mercato notturno. Si chiama Don Daman. Ho mangiato molti cibi buoni e poi abbiamo bevuto la birra insieme. Dopo tornare all'albergo e abbiamo fatto griata tardi a mezzanotte. Inoltre siamo andati al mare Cixinthan e siamo andati ad una cascata piccola. Abbiamo fatto molte foto e abbiamo fatto il bagno. Mi piace quelli viaggi molto bene perché mi piace stare con i miei amici. Che felice!